Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con a voi la linea. In primo piano la siccità che continua a perdurare. La situazione è drammatica tra Povoletto e Remanzaco dove è stata chiusa la roggia cividina. Per i dettagli ci colleghiamo con Davide Vicedomini che ha raggiunto il sindaco di Povoletto Castenetto. Buongiorno a tutti, ecco ciò che rimane della roggia cividina. Ci troviamo nella strada tra Primulacco e Savorniano e siamo insieme al sindaco di Povoletto Castenetto che ci spiega un po' qual è la situazione attuale nel vostro comune che interessa però anche Remanzaco. E' una situazione purtroppo direi drammatica sia per l'agricoltura che per l'ambiente. Interessa il comune di Povoletto però a seguire Remanzaco soprattutto e poi anche Butrio e Manzano anche se lì l'apporto della roggia era un po' residuale. Il problema è che è stata chiusa e ovviamente tutti lo sappiamo perché non c'è acqua nell'invaso di Zompitta. In realtà sono state giudicate prioritarie le due rogge, quella di Palma e quella di Udine in quanto che ci sono le opere consortili e ci sono i consorziati che hanno tra virgolette maggiori diritti dei nostri agricoltori. Questa è una cosa che giuridicamente ha un senso però indubbiamente come sindaco mi lascia molto perplesso e contrariato. Vi sentite un po' di serie B? Siamo sostanzialmente di serie B, è un problema che non è nuovo per fortuna diciamo l'ultima chiusura di questo tipo fu nel 2003. Indubbiamente è un problema che deve essere in qualche maniera risolto perché oggi ci stanno tante famiglie sul nostro territorio che si vedono veramente compromessi, raccolti e loro redditi. Per l'anno è una situazione assolutamente molto grave. Ecco qui scorre ancora un po' l'acqua e facciamo di nuovamente rivedere le immagini grazie alla nostra Martina Beraldo ma molto più avanti nella direzione dietro di noi invece è già stato interrotto il corso molto tempo prima? No in realtà neanche qua scorre, in realtà mandano giù qualcosina credo per garantire un minimo di vitale all'ambiente. C'è un deflusso. Sì, il problema è che tra l'altro è anche un grosso problema ambientale perché nella roggia effettivamente adesso stanno morendo tanti animali. Devo dire grazie ovviamente anche al consorzio e all'ente tutela pesca che ha fatto il recupero del pesce, però tutti i piccoli animali, le libellule, tutta la microfauna che vive in questo ambiente naturale è compromessa. Io credo che la soluzione non possa che essere quella di affrontare il problema degli invasi o ancora meglio la famosa derivazione dal lago di Cavazzo. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un incontro, sono stato giù io col mio assessore, il sindaco di Remanzacco, Tiziano Venturini, assessore di Butrio. Siamo stati a parlare col consorzio, il consorzio sta facendo uno studio geologico, faremo un tavolo tecnico i primi di settembre per verificare la fattibilità della realizzazione di alcuni invasi che permettano diciamo di stoccare l'acqua nei momenti in cui in questo caso la roggia cividina, ma lo stesso discorso può riguardare anche il malina, tant'è vero che coinvolgeremo anche i comuni di Fa e di Seatimis. Quindi di stoccare l'acqua per poi rilasciarla in questi momenti che purtroppo temo saranno momenti che dal punto di vista climatico ce li troveremo anche nei prossimi anni. E' una soluzione che non è che di subito avvio, nel senso che bisognerà attendere del tempo, no? Non è assolutamente di immediato avvio, di positivo diciamo la volontà del consorzio di affrontarlo, la volontà della regione che ha messo nell'assestamento di bilancio alcuni fondi e la speranza dei fondi del PNR. Oggi questo è possibile. L'altro discorso grosso che secondo me va ripreso in mano, la politica regionale lo deve riprendere in mano, è la derivazione dal lago di Cavazzo che è stata cantonata per un falso riferimento di danno ambientale che in realtà non esiste, perché comunque c'è l'acqua che esce dal lago di Cavazzo, viene poi reimmessa nel bacino del tagliamento, quindi basterebbe prendere a caduta questo, indubbiamente si tratta di un'opera che mi quantificano in 50 milioni di euro, quindi non è uno scherzo. Però questo risolverebbe i problemi di tutta la sinistra torre, non solo di Povoletto. Io la ringrazio sindaco, allora la roggia di Cividina, lungo la strada che unisce Savognano a Primo Lacco è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Davide, noi cambiamo argomento. Questa mattina è stato inaugurato il totem che nel 1981 venne donato dagli emigranti canadesi a Udine dopo essere stato sottoposto a Restauro, un vero e proprio simbolo che arricchisce il parco udinese McBride. In seguito è iniziato il congresso della Federazione dei Fogolars Furlan del Canada. Per tutti i dettagli, linea a Daniele Paroni. Grazie della linea, siamo all'esterno del Salone del Parlamento del Castello di Udine dove c'è la seconda parte di questa intensa mattinata che coinvolge la delegazione di emigranti canadesi facenti parte della federazione che raggruppa 16 fogolari canadesi. In mattinata al parco McBride è stato inaugurato il totem restaurato a Tarvisio da Francesca Comello, vicepresidente di Confartigianato, un simbolo donato 41 anni fa proprio dai canadesi che per motivi di emigrazione si trovavano e si trovano tuttora da quelle parti. Ricordiamo che in Canada sono un milione gli italiani residenti, di questi 50 mila sono friulani. Ma andiamo a sentire alcune delle voci raccolte al parco McBride. McBride è appunto il pilota che nel 1976, pilota di elicottero, precipitò a Trasagis durante gli aiuti nel posto remoto. Anche oggi non è stato un discorso di circostanza ma ha sottolineato due cose sull'operosità dei friulani. La citazione di Michelangelo. Sì, è importante recuperare anche attraverso questi simboli la capacità del fare, del fare con le mani. Ed è una bella citazione quella nel film Good Born in Babilonia quando alcuni artigiani italiani lavoravano alle scenografie del film di Griffith e venivano derisi perché diciamo gli italiani, mani sulla pancia, sguardo verso il sole, lo rispondono sì, noi siamo i figli dei figli di Michelangelo e di Leonardo, noi abbiamo restaurato le chiese di Ferenze e di Pise. Voi di chi siete figli? Cioè per dire che attraverso questa tradizione del saper fare facciamo grande il nostro Friuli. È stato fatto appositivamente per il millesimo della città di Udine che succedeva dopo nel 1983 e l'abbiamo portato come dono alla città di Udine per quello bilesimo. È un simbolo importante ma è qui collocato nel parco McBride di Udine, un luogo molto frequentato e aveva bisogno di un restauro. L'abbiamo fatto anche perché dobbiamo ricordare questo dono molto prezioso fatto 41 anni fa dalla Federazione Favolar Furlans del Canada e quindi era obbligo nostro di riportarlo in pratica al suo antico splendore. Come ente Friuli nel mondo non possiamo che ringraziare l'amministrazione comunale di Udine, la persona di Fontanini che ha mantenuto la promessa in vista appunto del terzo congresso internazionale dei canadesi qua nella loro patria, qua in Friuli e soprattutto confartigianato nelle mani dell'esperta Comello che ha recuperato questo simbolo dell'unione dei popoli ma soprattutto dei friulani di questa patria e i friulani che sono in giro per il mondo, in questo caso dei canadesi. Graziano Tilatti, i friulani di certo non sono un popolo che sta con le mani in mano, qui c'è l'esempio dell'operosità? Beh, qui proprio veramente è il simbolo, noi come mondo di confartigianato siamo veramente grati ai focolati friulani del Canada ma anche all'amministrazione comunale di Udine per aver, se mai ci fosse stato bisogno, averci dato l'occasione di dimostrare quello che gli artigiani sanno fare. Purtroppo era in condizioni veramente pietose, bisogna dirlo, perché era inserito comunque in un basamento riempito di sabbia quindi ogni volta che l'acqua con la pioggia arrivava lui si impregnava, non aveva protezioni e quindi sia dall'alto che dal basso veniva costantemente agito sia dagli agenti atmosferici ma soprattutto, brutto dirlo, dagli insetti per cui internamente era completamente lesionato. Udine ha recuperato oggi alla grande una credibilità anche da parte dei nostri amici con radici friulane e i canadesi che sono arrivati, era il miglior modo per dargli il benvenuto e noi siamo molto fieri di questo. Ci spostiamo a Torre di Pordenone dove il progetto Anima le Vie si rinnova con giovani artisti che abbelliscono i muri del quartiere attraverso disegni con protagonisti Gli Animali un'iniziativa lanciata dall'Associazione Torre. Siamo nel quartiere di Torre in compagnia di Tiziano Barbisin, vicepresidente dell'Associazione Torre perché continua un importante progetto artistico per il quartiere che insomma prosegue anche con altre opere come vediamo alle spalle. Sì, in effetti abbiamo dato vita, è proprio il termine esatto, nel 2020 l'edizione Zero l'anno scorso abbiamo intensificato anche con alcune opere interessanti che sono visibili a tutti e quest'anno abbiamo fatto un progresso, abbiamo costituito una sorta di comitato che è sorretto da una direttrice artistica, Virna Coloone e lì abbiamo cominciato a lavorare un po' più seriamente su questo progetto che si chiama Anima le Vie. Siamo in questo parchetto perché questo è il numero uno dell'edizione 2022 è simbolico perché è un parchetto che è frequentato da famiglie, da ragazzini, da bambini e l'artista ha proposto una famigliore di Ricci che è un animale che solitamente si trova nei parchi e il suo modo di dipingere comunque esprime anche una facilità di lettura anche da parte dell'infanzia per cui abbiamo fatto questa scelta. Importante il fatto che puntate sugli animali, Giulio Masieri il primo artista a cui ha dato vita il progetto Chi è l'artista che lavora oggi e si continua su questa scia animalesca. Sì, si continua, il soggetto proprio sono gli animali del territorio, ora che siano giganti o meno ma comunque l'importante è che siano animali del territorio e anche quest'anno si sono aggiunti due artisti in più oltre a Riccardo che ho qui al mie spalle e quindi anche qua c'è un'evoluzione. Diciamo che noi avremo anche un progetto molto lungimirante che può comunque trovare anche diciamo così una collaborazione con la scuola d'arte che abbiamo la fortuna di avere qui vicino insomma ma dobbiamo fare un passo alla volta insomma. E' anche un modo per mettere in vetrina per così dire i giovani artisti che hanno un modo così di poter mettere la loro arte a disposizione del quartiere. Sì, questo è un altro nostro grosso obiettivo perché se vi racconto quanti nomi ho di giovani che vorrebbero dipingere muri probabilmente i muri non basterebbero e quindi anche questo è un percorso che dobbiamo affrontare volta per volta perché tutto questo comunque viene regolamentato. Cioè non è che uno si inventa di dipingere, va lì e fa, c'è una commissione comunale che approva poi i bozzetti e ci sono una serie di situazioni diciamo così tra virgolette burocratiche ma giuste che devono essere comunque affrontate nel modo corretto. Il prossimo disegno dopo questo per l'edizione di quest'anno? Allora il prossimo disegno, ne abbiamo sei in realtà. Allora Riccardo poi farà un altro garage che attualmente è imbrattato con scritta eccetera ma forse è meglio non dire perché i soggetti sono molto interessanti ma man mano magari la sorpresa è quella che vince sempre insomma. E' tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS